Il gruppo da un paio di anni a questa parte ha avviato la Waste Transition, ovvero si è passati dal grande impianto di gestione dei rifiuti a un modello di gestione dei rifiuti che sia diffuso e partecipato e qui la nostra soluzione ASEA SmartConf è una soluzione innovativa che ci consente la gestione della frazione organica, degli scarti organici, direttamente nel luogo di produzione, abilitandone alla trasformazione in compost. Come innovazione brevettata, il monitoraggio dei parametri chiave del processo di compostaggio direttamente dentro la massa del rifiuto e questa cosa è molto innovativa e consente di sostanzialmente creare quell'ambiente ideale per i batteri affinché accelerino più al massimo il processo di compostaggio, quindi monitoriamo ossigeno, temperatura, umidità e ad ogni parametro analizzato viene comunicato alla macchina e questa reagisce di conseguenza. Uno di questi primi progetti appunto è la Biscera, infatti anche in questo caso in partnership con Enea, dove tramite una piattaforma abbiamo messo in condivisione i nostri laboratori con quelli di Enea, con l'obiettivo, adesso siamo in due, che possiamo accedere a questa piattaforma a utilizzare i laboratori, quindi richiedere delle analisi, poi analisi molto sofisticate in ambito ambientale. L'obiettivo è quello di aprirlo a breve anche a terze parti, quindi altre enti di ricerca, altre università per creare un grande polo scientifico tecnologico a livello nazionale.